Il 26 giugno 1963 a Berlino, davanti a una folla che non è retorico definire oceanica, e avendo alle spalle la porta di Brandeburgo, John Kennedy pronuncia uno dei discorsi politici più celebri e più importanti non solo della sua carriera politica ma della storia. Lo fa in un contesto politico molto particolare. Siamo nel 1963, due anni prima la Germania dell'Est, la DDR e l'Unione Sovietica avevano deciso di costruire il muro di Berlino, quel muro che avrebbe diviso Berlino e l'Europa per decenni. Gli Stati Uniti erano stati criticati per non aver ostacolato la creazione del muro. Kennedy arriva a Berlino e vuole far capire ai berlinesi e ai tedeschi quanto l'America e quello che lui definisce il mondo libero sono vicini. A loro. E pronuncia questo discorso con una frase che diventerà molto celebre. Io sono berlinese detta in tedesco. La leggenda vuole che questa frase non fosse prevista nella stesura originale del discorso ma che Kennedy all'ultimo momento decise di inserirla. Chiese al suo consigliere politico come si pronunciava quella frase in tedesco. Se lo fece ripetere utilizzò l'ufficio del cancelliere per esercitarsi a pronunciarle in modo corretto e poi fece quel suo famoso discorso che fu reso celebre da questa frase. 2000 anni fa l'orgoglio più grande era poter dire civis romanus sum oggi nel mondo libero è dire ich bin ein Berliner.